Quinto scudetto Sì, non c'era un modo migliore veramente non solo per finire il mio percorso ma anche per finire questi due anni perché siamo stati sempre vicini a qualche trofeo e sempre ci è mancato qualcosa finire con una bellissima Coppa così è il modo migliore Cosa sono questi ragazzi, questa squadra? Quello che dicevo prima è che questa squadra è una squadra con gran futuro giovani che cominciano la loro strada così tanto tanto futuro Il tuo destino sarà a Milano ma adesso pensi a questa Trento a festeggiare questa sera? Sì, questa sera si festeggia a Trento poi penserò a tutto il resto comunque non smetterò di cercare di riprendermela